E' partito? Oh no! solo se serve ma ora facendo la dimostra trebimedio trebimedio e? 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Più lungo. Gira. Basta. Basta. Bravo. Bravo. Ce n'hai un'altra davanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravissimo. Benissimo. 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 allenta alzati tu bravissimo non male ok vai avanti senza dirgli niente adesso ne hai un altro ancora tutti i cani sono le persone che sono un po stupide è la prova sai tranquilla e correggi solo se serve correggi correggile lasciala fare lasciala sbagliare bene bravissima vai eh un poccino brava va bene vai 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 ripallo più disinvolto e vai e torna fanno col guinzaglio un po più lungo ok vai passa benissimo va meglio vero togli la museruola e fallo senza museruola come era sì vai bravo bravo bellissimo ok andiamo alla macchina va vai vai bicicletta gira per per no ce lo lascio questa è una bella prova mettilo in plazio prima bravo bravissimo bravo no plazio no plazio troppo lento devi essere più tempestivo quando lo vedi muoversi non ti preoccupare aiutala con la mano da dietro è rigido perchè è la paura quella, è la tensione no? allenta lascia il guinzaglio in terra vai lì e muovi quello se si muove non plazio e poi lo aggiusti niente correzioni no no tiralo su e poi lo se lo muove ancora no 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 non ce lo muove un po' di scatto scatto? si sembra di più si ok chiudi il ritorno ok vai fare lì un massaggio lento è fatto bene bene ok ok ma come ti piace mettiti proprio a fianco al cane mettiti dall'altra parte bravo vai come suonare un pianoforte puoi usare anche due mani buon po' di scatto bene benissimo no Perfetto. Solo se serve. Perfetto. Perfetto.